La bandiera di Poteglia 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 E' molto bello! E' questo... ...è qualcosa di dell'isola... ...è qualcosa di dell'isola... ...è qualcosa di dell'isola... ...è... ...veve visto il tipo dell'isola? Bravo! Bravo! Viena! 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 Bravo! Viena che viena! 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 Questo è il giorno della manifestazione... ...che avrebbe dovuto essere... ...epocale. Stavamo per comprare... ...un farmaco che serve per i lacrimogeni. ...ci siamo messi in tutta... ...per poter scappare. Mi sono portato il telefonino... ...per arrivare vicino agli scontri. ...ha app, il cuore... ...e suonatore... ...di due ragazzi! Sì... ...e suonatore è davvero... ...è non è fai... ...e... ...due ragazzi! ...è... ...d'accordo... ...è? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non funziona, Anna. Che cazzo stai dicendo? Ragazzi, che cazzo stai dicendo? Anna funziona. No, non funziona più. Nel frattempo però un attimo ha funzionato. No, 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 no. Funziona, Anna? Ragazzi, funziona. No, quando la giri non funziona più. No? No, adesso è nero. Aspettate, perché voi non mi credete. Però mi giuro che c'aveva ragione. Funziona? Girata no. Aspetta. Ti porto la macchina di là. Aspetta. No? No? Mi stai, mi stai vieno buon ruolo. Eh? Inca, mi inca. I'm filming you, giving the camera, for the backstage. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. I see you see, she glings off me. It works. Funziona. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Bird rock. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Na 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 na. Cry the world. Na na na. Na 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 na. Sì, 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 sì.